Salva il mondo e vedrai un botto di persone che scrivono giveo, giveo, no? Vabbè, posso giocare? Salva il mondo, mi aiuta a fare le missioni. Ah no. Vabbè, forse. Devo andare in chat gioco un attimo. In V. Ok, penso che... Ai, 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 scusa, scusa. Era in party, era in party. Scambi, vero? Sì. cosa vuoi i masamoni, i materiali oppure armi i materiali materiali viti e bulloni cosa? viti e bulloni viti e bulloni si scambi efficienti per le viti inizio no? due stack di efficienti per uno di bulloni no, non mi servono cos'è quella? cosa? quella vasca d'oro queste qui sono le nostre armi che abbiamo a disposizione che possiamo scambiare con te questi qua sono i materiali mi dai i permessi qua voglio controllare qua se c'è qualcosa sotto me li puoi togliere ma no, scambiate faccia a faccia apri, apri, faccio giù scambiate faccia a faccia oppure scambiate... eh facciamo faccia a faccia allora troppo prima quindi viti e bulloni le scambi? eh sì giusto un attimo vieni qua un secondo non si scambiare non si scambiare il controllo abbiamo anche lanciato ma Samuni sono doppio elemento sì sono elementi energia e tu ok perfetto se ti do cento di raggio me ne dai una no nel cinque duecento cioè più che altro no 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 ho due armi queste dove sta l'altro ha stato inizia a scaricare il campo ce l'avete il re oh eccomi vieni qua da me scambiamo ecco vai quando vuoi eh però cosa scambiando ti do due stack di efficienti tu mi dai uno stack di viti e bulloni non mi serve raggio in quanto uno stack sky a buio ce l'hai sky a buio no però arcobaleno oppure corlo eh c'ho due stack e 549 di arcobaleno poi cinque stack di corlo facciamo una cosa mi dai metà stack di arcobaleno e uno stack di di raggio e cosa mi dai uno stack di viti e bulloni eh no 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 mi potrei fare più viti e bulloni se faccio cos'altro se tipo mi faccio arrivare da uno mi darebbe gratis su uno stack poi mi stai chiedendo troppo quindi ti farei un'offerta di uno ho sei stack di viti e bulloni eh se ti servisse ho sei stack di viti e bulloni eh e cosa vuoi in cambio uno stack di raggio no due 50 di arcobaleno no 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 100 di arcobaleno 100 per cosa però ho 4 stack di viti e bulloni 100 di arcobaleno per vabbè 4 stack di viti chiudi e metti il muro qua no no faccia faccia ah ok 100 di arcobaleno vero tu puoi allontanare tu allontanare 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 inizia a drapparne 50 se non ti fighi è la stessa che cosa scusa